Buongiorno, siamo qui a presentarvi il porto TARMA. Questo prodotto si compone nelle tre principali qualità introdotte dall'aeromet dell'ultimo anno. Il telaio ulteriore a porta, la columnina motorizzata e il sistema TARMA preventato direttamente da Aeromet. Questo sistema è praticamente universale insomma, ovviamente sia per monitor di piccola taglia fino a un massimo di 45 volti. In questo specifico caso il monitor è da 65. Come vedete la forza applicata è minima e il sistema è pensato per essere in equilibrio in ogni posizione. Dunque, appena io rilascio la forza lui rimane fisso e in equilibrio. Come vedete la rotazione è costante, senza scatti, fino al massimo di 90 gradi. Con la columnina motorizzata io posso muovere su e giù il monitor e questo è molto utile per persone di bassa statura oppure delle persone con disabilità che possono accedere molto comodamente alla lavagna interattiva. Inoltre, la colonna motorizzata presenta al suo interno anche una predisposizione per il passaggio dei cavi, così che essi siano totalmente invisibili e, come avete visto, tramite la rotazione non danno alcun fastidio. Per finire, possiamo dire che la colonna motorizzata, essendo fatta di materiali riflettenti, è adatta sia a ambienti moderni che ambienti antichi, come musei o palazzi antichi. Per finire, passiamo alla piccolarietà di Agoment, ovvero la sua struttura a porta. Questa struttura presenta molti vantaggi. Innanzitutto un'elevatissima stabilità strutturale, proprio da questa forma geometrica a porta, la quale veniva utilizzata fin dagli antichi romani, che però rimane ad oggi ancora molto attuali. Inoltre, questa particolare disposizione del ramio è così che la struttura sposti il suo paricentro verso il basso e abbia un'ampia base di appoggio, così che il sistema si sente in equilibrio. Inoltre, questa base di appoggio difficilmente dà fastidio alla persona, anche le armati di cui si trovano molto vicine al motor. Inoltre, queste rotelle sono molto comune, permette di spostare il sistema molto facilmente. In più, tramite un semplice treno, si può trasformare il sistema da fisso a nobile e viceversa. Per finire, vengo a registrare questo braccio per la videocamera, il quale, tramite la sua posizione di tre quarti, permette una visuale ottima per la ripresa. Inoltre, siccome è fissa alla parte posteriore, non si muove durante la notazione. E quindi io, con il momento, non vado mai a coprire la telecamera e posso integrare così i vantaggi di una rama interattiva o di mancarci di una videoconferenza.